Buon sabato pomeriggio a tutti, in tanti mi chiedete centrature su tante altre cose oltre a S&P 500, Nasdaq, DAX, MIB, Bitcoin e Ethereum. Sei cose che non è già semplice seguire completamente da solo. Però quando magari per aiutare un amico mi viene chiesta una centratura rapida su un qualche cosa di differente da quello che eseguo, benvenga se l'amico è qui, ci diamo un'occhiata insieme. Ed ecco che cosa succede. Succede che vi ritrovate gratuitamente sempre su questo canale un'analisi sul petrolio WTI. E l'analisi che cosa ci dice? Ci dice che siamo arrivati a 236 giorni di annuale inverso, che potrebbe aver chiuso qui, vediamo un po', qui, 218, sì, ok. Che però da qui non c'è stato un movimento per ora per far partire un nuovo annuale inverso e quindi la più concreta delle possibilità è che manchi un baffo. A rialzo, come al solito disegnamolo, un baffo e il là, no, ve l'ha preso? Sì, no? Pennello? Ecco, adesso lo aggiorna, grazie mille, perfetto. Che ci aspetti un rialzo, anche dopo un ribasso. In generale sto parlando di un'aspettativa del corso di un mese, ok? Perché? Perché, dico un mese, per il fatto che terminato sicuramente, senza tema di smentita, senza possibilità di altro, un annuale qui ha 329 barre su minimo 336. Da qui non abbiamo avuto la violazione di uno swing per la partenza di un annuale nuovo, non abbiamo potuto vincolarci. Avevamo il tempo almeno da qui? 40 barre? No. Non avevamo neanche il tempo. Dunque, minimo 76,25. Qui abbiamo fatto un 75,27. Da qui non può essere partito un annuale già vincolato a ribasso, ricalcolato in tempo reale. Ecco, chiuso un annuale lato indice, o parte un raccordo, e quindi c'è una finta e ci riporta temporaneamente in basso, ma ormai è pochissimo tempo per riportarci giù. O può essere questa la finta, perché massimo un raccordo tra un annuale e un annuale può durare un t più 2, un mensile. E noi siamo a 42 barre su 43 il massimo. Se fosse un raccordo tra biennali, che ci può stare, potrebbe durare un t più 4, quindi attenzione comunque alla cosa. Ma se volessero rendere più semplici le cose, avremmo una partenza semplicemente a V, ok? E quindi proseguiremo a salire con target, quello che sarà la media mobile a 200 periodi, che in questo momento passa agli 80,33. Più avanti, se continuerà la discesa o se si appiattirà, comunque ci porterà a un livello leggermente più basso, ma quello è il target per una possibile salita dei prezzi del petrolio. Questo ci permetterà di andare a chiudere l'inverso, che però ha tutto il tempo del mondo per chiudere, perché siamo a 236 giorni, che non è neanche... E siamo a 20 giorni, quindi, dalla possibilità di chiudere con tempistica media un annuale inverso, e siamo a 65 giorni del terzo trimestrale, potrebbe essere... scusate, del secondo trimestrale, del secondo semestrale inverso, che potrebbe fare un tre tempi. Primo mensile inverso, secondo mensile inverso, terzo mensile inverso, chiudere l'annuale inverso e tornare a scendere. Quindi, vediamo che forza può avere questa salita. Perché se invece il tipi 4 inverso, il semestrale inverso, che è arrivato a... Ah, qui ho sbagliato, ok, 114 giorni, vedete che ho fatto un po' fretta, in fretta. Se il semestrale inverso vuole continuare a salire fino a tutta la sua durata, quindi 168 giorni, abbiamo ancora 54 giorni di potenziale salita, e con 54 giorni, più quello che abbiamo già di giorni, metodo statistico-matematico, 54 più 42 fa 96 giorni. Con 96 giorni io ho un semestrale che mi fa partire persino, swing permettendo, da questo minimo non soltanto un annuale, ma un biennale ciclico. Ok, questa è un'aspettativa generale, se non sarà un raccordo, se proseguiremo a salire, se andremo in violazione di questo swing, questo swing, poi questo swing che sarà quello appunto da tenere d'occhio. Nel gruppo premium ovviamente mi pregerò di fare che cosa? Di raccontare quale sarà lo swing che andrà violato per far partire un annuale da questo minimo, se mi verrà chiesto, e se mi verrà ricordato nella chat DAX, MIB, S&P 500. Altrimenti non farò calcoli, volevo soltanto darvi la possibilità di avere delle informazioni su che cosa può fare il petrolio nel medio periodo per far partire da qui un annuale nuovo di ciclo, se questo non sarà appunto un raccordo tra un biennale di lato indice o un annuale lato indice, e tra poco quello di annuale lato indice possiamo escluderlo serenamente. Grazie per l'attenzione, spero che la cosa sia gradita, nel caso mettete un bel like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che è totalmente gratuito, cliccate sulla campanella per sapere quando uscirà la prossima analisi. Buon fine settimana a tutti, arrivederci!